Il secondo tempo che è ripartito con una sostituzione che è subentrato Paul e l'altro che si è fatto male anche con la che è subentrato Steve. Adesso sta entrando De Biglio è entrato anche De Biglio con 13 sempre 2 a 1 si parte con il portiere i due, i due e c'entrano, negro, bravo, negro, che bisogna stare attento sempre con uno 11 che fa un bel taglio Abbiamo rischiato di grosso di grosso di grosso di grosso di grosso gosso di gosso, angolo per centalo, ok una rimessa per centalo centalo, ok, debì, nove, verde, Samu, Anu, Anu che gira, Oda che parte fuori, una rimessa per bra, si parte con Oda, ok, Pol, che taglia, Silota, ok, Samu, bravo, che fa uscire, per nulla, ok, la scala servito da Samu, la scala di nuovo, una rimessa per centalo, 2 a 1 sempre per centalo, Anu, debì, ok, un fallo subito, un fallo di centalo, ok, Steve, la scala, la scala, la scala, ok, Anu, Anu, cado, se era partito prima poteva prenderlo senza fuori gioco, non si parte con portiere, Anu, che lota i dieti, Anu, una rimessa per centalo, una rimessa per bra, si va con la scala, Anu, fuori gioco che l'arbitro non ha visto neanche, sento quello 10 lì, che sembra come Gianfranco Zola di una volta, la scala verde, verde, ok, Diego, fuori gioco, oh la 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 la, Diego, Diego, fuori gioco, oh la 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 la, abbiamo rischiato di grosso tutto qua lì, un fuori gioco che l'arbitro non ha visto neanche, veramente non riesco a capire, un fuori gioco nettissimo che l'arbitro non ha visto neanche, una rimessa per bra, il 9 che non riesce ad uscirne, c'è Centalo che sta tenendo la partita, non fare fallo, non fare fallo il capitano, non fare fallo, negro, ok, negro, cado, ma io non riesco a capire, senza parole, verde nel vuoto, raddoppio, una punizione quasi nell'aria, rischiamo di prendere un altro gol, quasi, eccole, una bella punizione, che veramente da fare una preghiera, ok, guardiamo che cosa inventerà Steve, se oltrepassava la palla, e lo inquadrava, bravo, bravo che bella barriera, ok, la scala, ok, verde, Diego, ok, che filtra un po', fuori, uscito, tante due, passati, passati, sti, completare la bocca del colore, palla, le bocca del colore, la unica, tutto, vanno, l'Italia, troppo pesante un ragazzo per terra un giocatore del Centalo ok, una rimezza per il bravo esce Anu entra il 14 entra Gaga forza Gaga esce Anu al suo posto Gaga con il 14 un attrattenuto che l'arbitro non fischia neanche è bello che i ragazzi stringono le mani guarda che la partita non è ancora finita che si fa passare tempo così può succedere un po' di tutto è che non è finita Debi, bravo bravo Gaga Debi, bravo Verde Samu Samu la scala è libera liberati dal palo ok Debi bravo negro ok Italia buona veramente non riesco a capire quello che sta succedendo veramente il nove deve svegliarsi bravo bravo Diego Debi bravo Debi bravo bravo le bro bravo di bravo bravo il nove giro la scala in Debi Samu bravo 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 Ecco, si parte con la rimesa del centalo. Ok, sembra come una partita morta. Ok, Gaga, verde, la scala, pole. C'è un ragazzo per terra che ha preso una pallonata. Una pallonata. Grazie. 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 Grazie.